Il grado di civiltà di un Paese si misura dalla tutela che riesce ad assicurare diritti fondamentali dell'uomo, insopprimibili, inviolabili, valevoli oltre ogni frontiera, perché ontologicamente legati all'uomo in quanto tale e al suo vivere nella società. Con riguardo i soggetti privati della libertà personale, l'Unione Europea ha una grande responsabilità. Garantire standard minimi di detenzione atti ad assicurare una buona collaborazione giudiziaria tra Stati membri. Lei ha il corrente che ancora oggi molti Paesi membri sono ben lontani dall'accordare condizioni di vita all'interno degli istituti di pena non inquadrabili quali trattamenti inumani e degradanti, se non addirittura come tortura. Il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e le finalità di rieducazione e risocializzazione della pena si ritrovano ad essere molto spesso mortificati e violentati da sistemi punitivi che ignorano le regole minime di detenzione, andando oltre le problematiche correlate alla capienza regolamentare e finendo con l'alimentare i tassi di suicidio o con il rappresentare ulteriore motivo di inasprimento della sofferenza mentale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudizi. Come pensa si possa implementare il percorso di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute internate, già iniziato con l'approvazione delle regole penitenziarie e con la redazione del programma di Stoccolma? Grazie.